A soli 34 anni Gabriele Attal è diventato il più giovane primo ministro della Quinta Repubblica Francese, succedendo alla dimissionaria Elisabeth Bourne. Ma secondo voi in Italia potrebbe accadere che un 34enne diventi presidente del Consiglio? Magari non così tanto giovane, ma effettivamente un under 40 lo abbiamo avuto anche noi. Sto parlando di Matteo Renzi, diventato presidente del Consiglio a 39 anni e un mese. Anche Giorgia Meloni in realtà ci è andata molto vicina, con i suoi 45 anni e 10 mesi. Ma andiamo a vedere l'età media dei governi che si sono succeduti finora. Partiamo dal presupposto che a causa della forte instabilità degli esecutivi l'Italia ha avuto tantissimi governi. Dal 1946 e quindi dalla nascita della Repubblica Italiana fino ad oggi, i presidenti del Consiglio sono stati 31 e hanno presieduto complessivamente 68 governi. L'età media dei componenti degli esecutivi è andata crescendo negli anni, con una brusca frenata recente e un'inaspettata risalita. Dal 1948 e fino al governo Draghi, l'età media degli esecutivi italiani si aggira intorno ai 55 anni. Attualmente il governo Meloni supera questa soglia, con un'età media di 59,9 anni. E la cifra peraltro va oltre i 60 anni, se togliamo dal calcolo proprio la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Questo numero avvicina molto l'attuale esecutivo al primato del governo più vecchio, ancora saldamente in mano a Mario Monti. Il suo governo tecnico infatti è in testa con 61 anni di età media. E qual è invece il governo più giovane? Molti di voi probabilmente l'hanno indovinato, la coppia Conte I e Conte II, con circa 47 anni ciascuno. Ma in realtà anche la Prima Repubblica ha avuto governi più giovani. Già l'ottavo esecutivo De Gasperi e il terzo Di Andriotti avevano infatti un'età media di 49 anni. Insomma, in Italia, prima dei 40 anni, meglio provare una carriera diversa dalla politica se si vuole arrivare veramente in alto.